Il nostro prossimo oratore, Giovanni Menduni, è professore alla scuola di ingegneria della facoltà ingegneria del Politecnico di Milano. A me piace il fatto che lui usa dei sensori e delle analisi spaziali e dei dati. Lui si occupa di disastri naturali e per esempio si è occupato di terremoti. Lui si sta occupando di un altro disastro che non è proprio naturale ma è la corruzione. Questo suo progetto, il progetto che ci presenterà, che Wikitalia e il suo team ha fatto, è un progetto che si chiama Open Expo, che è abbastanza chiaro. Giovanni è going to tell us more about it and we're going to learn more about how to prevent some natural disasters. E impareremo come prevenire alcuni disastri naturali. Grazie Antonella, grazie a tutti, è un grande piacere essere qui con tutti questi amici. Sì, stiamo parlando di Open Expo. Noi abbiamo a che fare con l'Expo del 2015, l'Expo Universale. Noi abbiamo avuto vari scandali legati alla corruzione. Qualcuno ha detto stamattina che l'Italia è la terra della corruzione. In effetti, questo è un grande scandalo che è stato portato alla luce e alcune persone sono state arrestate. Uno di questi era proprio il capo del braccio che si occupa delle costruzioni dell'Expo. E qualcuno ha visto questo scandalo come una serie di scandali che si susseguono da Tangentopoli. Praticamente è una ripetizione del Tangentopoli, è un grande scandalo della corruzione. Però le cose sono un po' cambiate perché il nostro gruppo ha avuto l'incarico di mettere online tutti i dati dell'Expo in 60 giorni. E ci hanno dato altri tre mesi per poterla applicare, stabilizzare e rendere continuo questo insieme dei dati. L'Expo è un grande progetto pubblico di un miliardo di euro come bilancio, con 34 grosse opere, 21 cantieri e più di 5.000 contrasti per lavori, servizi, approvvigionamento e forniture. E si tratta di una struttura di dati molto complessa. Noi abbiamo avuto l'incarico di creare un progetto di disclosure e participation sulla base di questi dati. E ci è stato chiesto di mettere tutto online. Questa è la nostra organizzazione che è un LP e noi lavoriamo per mettere in contatto i cittadini e l'istituzione, ma questo è un rapporto che è intermediato da internet. Bene, per mettere i dati online non basta avere solo una bella pagina web, ma con tabelle. Noi abbiamo una parte sommersa dell'iceberg, cioè i processi per la produzione dei dati. L'open data è un processo di produzione, cioè i dati devono essere aperti per default, diciamo dal momento della progettazione fino a quando vengono pubblicati. Noi abbiamo cominciato a lavorare con l'Expo, abbiamo rianalizzato tutti i loro processi di produzione dei dati. E qua potete vedere su questa slide, non c'è una freccia luminosa, qui abbiamo queste due database gemelle. Una viene alimentata dall'Expo company, mandano delle dati a questa database e noi abbiamo dei dataset che sono solo delle views, delle query da parte degli utenti su questo database. Però permettiamo anche alle persone di avere degli API, in modo tale da poter fare tutte le interrogazioni che vogliono, come se loro fossero amministratori di questo database. Qua potete vedere una preview delle tabelle, abbiamo il tasto verde che è l'accesso API ai dati, ma abbiamo anche permesso di utilizzare dei dashboard per analizzare i dati in maniera molto sintetica. Qui, per esempio, per chi ama gli aerei, questa è la cabina di pilotaggio dell'aereo YouTube Sprite degli anni 60. Questa è la console principale che ci permette di andare a vedere tutti i 34 lavori, grossi contratti per analizzare tutti i dati relativi a ogni contratto. Abbiamo poi deciso con i manager dell'expo come aggiornare attraverso un accordo su come deve essere gestito il flusso dei dati e come aggiornare i dati in tempo reale. Bene, quali sono i nostri cinque punti? Cioè noi abbiamo utilizzato un approccio particolare usando una plataforma data.it.gov Tutti i codici sono open source, i processi sono aperti per default e poi abbiamo una collaborazione con diversi gruppi e abbiamo anche un engagement, abbiamo tantissimi messaggi relativi a questi dati, ma questa è un'altra storia. Queste sono i principali partner del progetto e vi ringrazio tutti per la vostra gentile attenzione.